L'illusione di credere in se stessi. Cosa significa il titolo di questo documento? Ho già parlato in altri video dell'illusione della sicurezza di sé, però è un argomento che necessita di un approfondimento, forse più approfondimenti, si potrebbe parlare per ore di questo tema. Ma essere sicuri di sé oggi è un concetto così astratto che non si capisce bene qual è l'origine di questa sicurezza di sé. Perché come ho parlato nella mia seconda diretta di dicembre, abbiamo un corpo fisico, un corpo emotivo, un corpo mentale, e poi ci sono i tre corpi dell'anima. Chi è sicuro di sé oggi su questo piano materiale è sicuro, spesso, se lo notate, di un concetto, di un qualcosa che sta su un piano ben preciso ed è il piano mentale. Cioè, magari io per anni mi occupo dello studio di un determinato argomento, e poi, quando questo studio si è approfondito ed è diventato parte di me, quindi l'ho rivestito di una forma mentale così spessa, tanto da identificarmi io in quella forma mentale, da diventare sicuro di me, ma in il contesto di ciò che io dico, faccio, esprimo. Questa è una forma di sicurezza di sé che è molto comune oggi. Però la domanda è, nel momento in cui questa sicurezza di sé, identificata come una forma mentale, quindi il saper fare una cosa, il saper esporre una cosa, nel momento in cui questa identificazione inizia a vacillare, nel momento in cui la mia mente non è più performante per vari motivi, per l'emotività ballerina in un determinato momento della mia vita, che fine va a fare con la sicurezza di me? E quindi si può dire che la sicurezza di sé è effimera, è fittizia, non è durevole nel tempo, se è identificata con i tre corpi inferiori che noi abbiamo, compreso quella mentale. E qui la domanda è, questa è sicurezza di sé, quella vera, dove è origine, dove si trova? La risposta è sempre quella, la risposta è sempre una. Entrare in contatto attraverso i tre corpi che abbiamo, attraverso il corpo fisico, attraverso l'emotività, perché la vera battaglia si combatte nel mondo emotivo, attraverso il corpo mentale, arrivare alla coscienza dell'anima. Quindi utilizzare questi strumenti per arrivare alla vera sicurezza di sé. Nel momento in cui ho trasceso questi tre meccanismi, e sono arrivata all'origine di tutto, allora da lì arriverà, scaturirà, la vera sicurezza di sé. A prescindere da ciò che io faccio, a prescindere da ciò che io dico, a prescindere da ciò che posso rivestire all'esterno, attraverso un ruolo per esempio. Quella sicurezza di me, anche nel momento in cui per esempio inciampo per strada, resiste. Non avrò più paura di aver fatto brutta figura, perché io sono identificato con qualcosa che va al di là di quello che la maggioranza crede di essere. Grazie.